Il Paradisi delle Signore, Anticipazioni, Enrico tace la verità sulla figlia, Marta indaga. Le nuove puntate di Il Paradisi delle Signore 9 sono caratterizzate dalla scoperta del segreto di Enrico Brancaccio, esordiente della soap pomeridiana di Rai 1. Il suo personaggio rimane avvolto nel mistero per un po', ma alla fine molti dettagli sul suo passato verranno svelati. In particolare Marta Guarnieri scopre che il nuovo magazziniere nasconde un segreto a tutti, che ha una figlia segreta di cui non vuole parlare a nessuno, il che la porta a indagare su di lui. Enrico tace sulla verità sulla sua figlia segreta, anteprima di Ladies Paradise 9 nella storia melodrammatica. Enrico Brancaccio è al centro della scena, soprattutto per i sentimenti speciali che si sviluppano tra lui e Marta Guarnieri. Come sappiamo, dopo il primo litigio tra i due, Enrico e Marta si ritrovano meglio, anche se il magazziniere fa molta fatica ad aprirsi con lei. Ci sono segreti nel suo passato che Enrico non ha ancora rivelato, che causeranno grossi disordini nella stagione 9. Avrà in modo di scoprirlo. La figlia del comandante scopre che Enrico ha una figlia segreta. Ma Marta ne scopre uno. Marta Guarnieri verifica la relazione di Enrico Brancaccio per puro caso, Marta fruga tra le cose del magazziniere e trova una lettera della figlia di Enrico. Perché fino a quel momento l'uomo non aveva mai menzionato questa ragazza, preferendo tacere la verità. Questa scoperta la sorprenderà particolarmente. Cerca di raccogliere informazioni sul passato dell'uomo, ma non vuole esagerare troppo. Marta però non si arrende e si rende conto che Enrico è davvero interessato e decide di indagare nel suo passato per saperne di più su Enrico. Enrico ha destato i sospetti di Armando nel primo episodio della nona stagione, Enrico viene provvisoriamente accettato come magazziniere al paradiso grazie all'amicizia con Armando Ferraris. Tuttavia Enrico fin dai primi istanti sembrava particolarmente misterioso, tanto che anche lo stesso Armando aveva dei dubbi. Che lo raccomanda a Marcello e Roberto Landi? L'uomo lo colse con una vaga telefonata, come se il magazziniere nascondesse qualcosa di importante.